Per quanto riguarda il pane, noce e dattini non era male Uh, che abbiamo qui? Sile retro, negozio allusato, esercito della salvezza La immodizia, veramente Vai per Cassoletti? Sì, stavo... Comunque, senta, io non ho fatto domanda per la borsa di studio Ah, prima io Ok Domandina veloce di tipo retorico Questo sei tu? Esatto Ah, no, che vuol dire? Guarda come vai Wow, bella presa 1.400 kg e 65 km orari Non è facile, tu hai grandi poteri Quello però l'ha preso da YouTube, giusto? Insomma, è lì che l'ha trovato Perché si tratta di un fake, è stato fatto a computer, no? È come quel video Come si chiama? Oh, sì, 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 come quello degli UFO e Starvolano Phoenix Oh, no! Ecco Allora, tu sei spaderino? Il rano che combatte il crimine Sei Spider-Man? No, no Sono... Spider-Man Non con quella tutina ridicola Non è una tutina Non ci posso credere La giornata era cominciata bene Lo sa, signor Stark? L'hanno perso il treno Ho trovato un lettore di nottime condizioni E il compito di algebra Alla grande Che altro lo sa? Qualcuno? Nessuno Nemmeno la tua affascinantissima zia No, 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 no Se lei lo sapesse darebbe di matto E quando lei dà di matto Io do di matto Sai cosa trovo fighissima? Ragniatela La resistenza alla trazione è superlativa Chi te l'ha prodotto? Io Camminare sui muri come ci riesci? Guanti adesivi? È una lunga storia Ero... Accidenti Riesci a vedere con questi cosi? Sì, sì, ci riesco Sono un cieco Sì, ci riesco Riesco a vedere con quelli Ok? Solo che Quando succede quello che succede È come se i miei sensi diventassero eccezionali C'è un input eccessivo Che mi aiuta a tenermi concentrato Hai bisogno urgente di un upgrade Sistemico Da cima a fondo Una ristrutturazione Per questo sono qui Perché lo fai? Devo sapere il tuo modus operandi Cosa ti fa alzare da letto la mattina? Perché... Beh... Sono sempre stato normale E ho questi poteri da sei mesi Leggo libri Assemblo computer E... E sì Mi piacerebbe molto giocare a football Ma non potevo prima E non posso adesso Certo, perché sei diverso Esatto Ma non posso dirlo a nessuno Perciò non lo sono Senta Quando si riesce a fare le cose che faccio io Se non le fai E poi succede Perciò sposta la gamba Hai il passaporto? No, no, no Non ce l'ho Non ho nemmeno la patente Ma è stata in Germania? Oh, ti piacerà? Non posso andare in Germania Perché? Ho i compiti Farò finta di non aver sentito No, dico sul serio Non posso mica ballare la scuola Può essere pericoloso Di rimanere a Zena Ok, ti porti in cita Non lo dica a zia a me Va bene, Spiderman Mi liberi? Scusi, prendo Non posso dire I c***o Noi Non posso dire I cani E Parro